cao eco royal blue cosa ci fa qui è l'inchiostro con il quale andremo a fare la comparativa tra i pennini flessibili vintage e quelli moderni nel video di oggi ho scelto due penne due penne molto diverse l'una dall'altra ma entrambe caratterizzate dal pennino flessibile una columbus una columbus 55 molto bella nella sua libreria verde a me piace molto questa questa penna anche se non è tra le mie preferite come come flessibilità perché il tratto è un tratto che nasce di partenza come un fine medio e quindi è già secondo i miei parametri ben lontano dall'extrafine questa invece la pilot custom 74 questa è bella è una bella penna una penna che pilot produce con il pennino numero 5 una misura interna della casa il nome del pennino è sf sf sta per soft fine cominciamo ma certamente prendo in mano la columbus e andiamo a vedere come scrive sul nostro quaderno pigna che cerco di tenere come terreno comune per tutti questi pennini come vedete è una scusate era appena fuori come vedete è una bella penna anche un bel pennino perché comunque tutta la variazione di tratto c'è e si percepisce molto bene ma per i gusti di chi vi scrive manca quel tratto di partenza così sottile che insomma molto spesso nella fa lasciare nel cassetto però c'è da dire anche il rovescio della medaglia il rovescio della medaglia e che è di una facilità nella scrittura che i pennini vintage flessibili non tutti hanno perché perché effettivamente questa scrive un po dappertutto poi guardate basta veramente appoggiarla per per far scendere l'inchiostro quindi sì ecco ci sono i pro e contro io lo so che a me piacciono quelli un po un po sottili soprattutto gli extra fini e quindi so che mi precludo alcune carte altre possibilità però questo devo dire è veramente una bella penna soprattutto per gli appassionati del tratto fine medio dall'insu come vedete raggiunge presto un grado bold andiamo a vedere la pilot custom questo è un fs ora lo scrivo pilot custom 74 sf dove s sta per soft e f sta per fine soft fine a indicare che il pennino è soft quindi sì di tipo io ve l'ho messo insieme a quelli flessibili ma sarebbe un elastico insomma non è un pennino rigido assolutamente no beh a me piace molto questa penna e sapete quante volte vi ho detto quanto sia una valida scelta soprattutto questa che è una di quelle che mi sono comprato nuove che quindi ho rodato io e le ho insegnato a fare ecco come vedete delle variazioni di tratto abbastanza marcate li ho insegnato lo dico scherzosamente però non è tutto frutto di uno scherzo nel senso che questo pennino ho preso solo la mia mano solo la mia modalità di scrittura e quindi mi asseconda molto di più di penne che sono state usate per anni soprattutto quelle si intende antiche da una mano o più mani diversa dalla mia difficile tracciare un paragone fra queste due penne sapete perché il vintage in questo caso ancora una volta risulta superiore perché perché la facilità con la quale il pennino si appoggia sulla carta e come vedete fa una variazione di tratto insomma questo pennino che comunque non dichiara di essere flessibile quello della della custom 74 vi dicevo questo pennino non ce l'ha perché vedete è un tratto che se non applico pressione è un tratto rigido non c'è non c'è via di mezzo tratto rigido la variazione la faccio nel momento in cui vado ad applicare allora sì un po di press di pressione scusate e allora ecco che mi diventa una un pennino semi flessibile un pennino elastico chiamiamolo come come vogliamo però ancora una volta il vintage si trova in vantaggio nonostante una bellissima penna stilografica come è la custom 74 vi rimando alle prove delle singole penne le trovate nel canale e invece vi invito se siete interessati a i prossimi video con le comparative e soprattutto la seconda parte della meccanica del pennino flessibile dove spiego anche altre cose che insomma vanno a completare quella quella piccolo capitolo attorno alla flessibilità quindi all'azione meccanica ed elastica del pennino tutti voi grazie e prossimi video